Musica 6 milioni di euro di beni confiscati all'imprenditore calogero John Lupino arrestato nel 2019 per associazione mafiosa. La sua scesa imprenditoriale sarebbe stata favorita dalla cosca di Castelvetrano e da Messina Denaro. Accompagnata dalle polemiche ieri sera in Consiglio Comunale, l'approvazione del debito fuori bilancio nei confronti di Sogeir, approvate le variazioni al piano triennale e al bilancio a seguito dei dinanziamenti del PNRR. Ciò che è successo ieri sera in Consiglio conferma che l'amministrazione, se vuole andare avanti deve coinvolgere il Consiglio Comunale e non limitarsi a trasmettere le delibere, tra l'altro in ritardo, così oggi Filippo Bellanca. A Ribera si dimettono dalla giunta municipale tre assessori, si tratta di Tramuta, Caico e Ragusa, tutti e tre di diventerà bellissima, dimissioni legate alla richiesta avanzata da Forza Italia di entrare a far parte dell'esecutivo. A pochi giorni dalla scadenza del contratto è arrivata la proroga, seppur solo per due mesi per i precari Covid in Sicilia, che riguarda anche amministrativi e tecnici. Il provvedimento è stato approvato dall'Assemblea regionale siciliana. Solidarietà, oltre 3.500 euro la somma raccolta ieri sera attraverso la tombola di beneficenza, organizzata dalle associazioni Orazio Capurro, Amore per la Vita e Agape Onlus. Serviranno per acquistare generi alimentari per famiglie bisognose. Benvenuti in studio dalla redazione giornalistica di Telemonte Cronio. Siamo in apertura mafia, è di circa 6 milioni di euro il valore dei beni confiscati all'imprenditore del settore delle scommesse calogero, John Lupino, arrestato nel 2019 per associazione di stampo mafioso. La sua scesa imprenditoriale sarebbe stata favorita dalla potente Cosca di Castelvetrano e da Matteo Messina Denaro. Vediamo il servizio. Ammonta a 6 milioni di euro il valore dei beni confiscati a calogero John Lupino, ex consigliere comunale di Campobello di Mazzara, arrestato per associazione di stampo mafioso nell'ambito dell'inchiesta mafia, Bette che aveva permesso di monitorare la sua rapidissima scesa imprenditoriale nel mondo delle scommesse giochi online. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Comando Provinciale di Trapani e scatturisce a seguito del sequestro di beni operato sempre dai carabinieri di Trapani e dal ROS nel marzo 2021. È stato notificato anche nei confronti di ulteriore 15 persone, 5 società comunque riconducibili a Lupino, tuttora detenuto in carcere per associazione di tipo mafioso dopo l'arresto avvenuto nel 2019. Calogero John Lupino dirigeva e controllava il settore economico dell'esercizio di giochi e scommesse, affidando alcune delle relative agenzie ad altri associati mafiosi. Secondo gli inquirenti, la sua scesa era stata favorita in tutto e per tutto dagli affiliati ai mandamenti mafiosi di Castelvetrano e Mazzara del Vallo che obbligavano i vari esercizi commerciali del Trapanese ad installare i dispositivi delle società di Lupino, pena pesanti e ritorsioni. Gli esercizi che invece accettavano il monopolio facente capo a Cosa Nostra potevano godere della protezione dei mafiosi pronti a punire chi, tra la delinquenza comune, prendeva di mira quegli esercizi commerciali. Così accadeva con un bar della provincia che aveva subito un furto proprio di macchinette per giochi gestite da società legata all'imprenditore mafioso. Cosa Nostra aveva individuato il responsabile del furto e tramite referente mafioso di quel luogo aveva provveduto alla punizione del presunto colpevole di avere danneggiato un esercizio che già aveva pagato la protezione dell'associazione mafiosa. L'ascesa dell'imprenditore Lupino, secondo quanto accertato, era stata sovvenzionata con cessioni di denaro ad esponenti di vertice dei mandamenti mafiosi di Mazzara del Vallo e Castelvetrano, tra cui i familiari dell'attitante Matteo Messina Denaro. Le indagini patrimoniali condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani costituiscono il completamento della più generale attività di contrasto condotta dai militari coordinati dalla Procura Distrettuale Palermitana nei confronti del potente mandamento mafioso di Castelvetrano. I beni confiscati sono costituiti da 10 società e relativi compendi aziendali, 6 terreni, 14 rapporti bancari, un motoveicolo, un cavallo da corsa, nonché denaro contante, titoli di credito e anche lingotti d'oro. Sarebbe deceduto a seguito di un arresto cardiaco Rosario Oliveri, l'agricoltore di 71 anni di Gibellina, il cui cadavere è stato rinvenuto ieri all'interno di una fossa di raccolta delle acque incontrata a Baronia a Salemi. È quanto ha scritto nella sua relazione il medico legale che ha eseguito l'ispezione cadaverica. Rosario Oliveri di Gibellina era scomparso da sabato scorso. Si era allontanato da casa con l'auto ritrovata due giorni fa grazie al GPS. A scoprire il cadavere erano stati ieri alcuni scout. Il Consiglio Comunale di Sciacca ha approvato ieri sera il debito fuori bilancio nei confronti di Sogeir e le variazioni al piano triennale e al bilancio comunale a seguito dei finanziamenti ottenuti nell'ambito del PNRR. Polemiche in aula soprattutto sul debito fuori bilancio. Il resoconto in questo servizio. Il Consiglio Comunale di Sciacca ha approvato ieri sera il debito fuori bilancio nei confronti di Sogeir e le variazioni al piano triennale delle opere pubbliche e al bilancio comunale a seguito dei finanziamenti ottenuti nell'ambito del PNRR. Delibere che andavano esitate entro il 31 dicembre e che hanno generato polemiche per il ritardo con il quale sono state trasmesse al Consiglio. Ad animare il dibattito è stato il riconoscimento del debito di 783 mila euro nei confronti di Sogeir, la società che ha gestito il servizio dei rifiuti fino al 2017 per il quale era stato raggiunto un accordo per il pagamento senza interessi e in tre annualità, la prima delle quali nel 2022, da qui l'urgenza di approvare la delibera che è approdata in aula con il parere contrario della Commissione Consigliare Bilancio. La questione sollevata dai consiglieri di opposizione è stata legata al parere espresso dai revisori dei conti, favorevole ma condizionato ad una compensazione, posto che è stato accertato che il Comune di Sciacca a sua volta è creditore nei confronti di Sogeir. Ci sono fatture emesse per circa 400 mila euro ma anche altre somme seppure non del tutto quantificate. Nel debito fuori bilancio proposto al Consiglio Comunale però la compensazione non era minimamente contemplata. Il Presidente della Commissione Bilancio, Filippo Bellanca, ha chiesto chiarezza agli uffici ma soprattutto all'amministrazione comunale sulla strada da percorrere. O si ritira la delibera per riformularla in considerazione del pronunciamento dei revisori dei conti o si procede ad emendarla in questa direzione ha sottolineato Bellanca ma analoga richiesta è pervenuta da altri colleghi. Sia gli uffici sia l'amministrazione comunale non hanno ritenuto però di ritirare la proposta per riformularla, ne hanno condiviso la necessità di emendarla. Il Consiglio è chiamato ad approvare un debito fuori bilancio e null'altro, ha dichiarato il dirigente Rapisarti. Ma il parere dei revisori, ribadito anche ieri sera in aula, è stato ritenuto condizionante e ha di fatto bloccato il Consiglio Comunale per circa due ore. Alla fine è prevalsa la proposta del consigliere Fabio Leonte che ha presentato un emendamento con il quale si è preso atto del parere dei revisori che è diventato parte integrante della delibera. Il debito fuori bilancio è stato così approvato con l'assenzione di Ignazio Bivona, Alessandro Grassadonio e Ignazio Messina. Il presidente del Consiglio Comunale ha mosso più di qualche dubbio sostenendo che non si poteva fare riferimento ad una compensazione non del tutto quantificata e non concordata con la controparte. Ancora più forte la posizione espressa dal consigliere Ignazio Bivona. Mai in tanti anni avevo visto una delibera così proposta. Stiamo scrivendo una pagina negativa del diritto amministrativo e non è concepibile che l'amministrazione presenti al Consiglio atti del genere in ritardo, ha detto Ignazio Bivona. Il collega Calogero Bivona ha evidenziato come il Consiglio Comunale, soprattutto l'opposizione, posto che in maggioranza consigliare in aula, si sia ritrovato ad operare tra l'incudine e il martello, tra un parere dei revisori di cui tenere conto e la bocciatura dell'atto che avrebbe potuto generare un contenzioso consogeir e un conseguente danno per l'ente. Le altre due delibere, la variazione al piano triennale e la variazione al bilancio, sono state approvate all'unanimità. Era necessario farlo entro la fine dell'anno per non perdere i finanziamenti ottenuti. Risorse importanti del PNRR che consentiranno la realizzazione dell'asilo nido in via Gramsci ma anche importanti interventi nel settore sociale. Tra questi l'housing temporaneo che verrà realizzato nell'immobile confiscato alla mafia in via Valverde e la stazione di posta da attivare nell'ex casa rurale di Contrada Sovareto. struttura al servizio di chi vive situazioni di particolare disagio. La prima parte dei lavori consigliari era stata dedicata alla trattazione delle interrogazioni, alcune delle quali già superate, altre relative a tematiche come l'illuminazione pubblica o le buche ancora da risolvere. Quanto è successo ieri sera? Conferma che l'amministrazione comunale se vuole andare avanti deve coinvolgere il Consiglio Comunale e non limitarsi a trasmettere delibere, peraltro in ritardo. Lo dichiara oggi il Presidente della Commissione Bilancio, il Consigliere Filippo Bellanca. Ascoltiamo l'intervista. Consigliere Bellanca, ieri sera il Consiglio Comunale alla fine ha approvato sia il debito fuori bilancio nei confronti di Sogeire, sia le variazioni e però dopo non poche discussioni relative al fatto che gli atti insomma non erano proprio del tutto completi. Una questione è questa che voi sollevate da tempo. Sì, non solo non completi, come lei ha detto, ma c'è un problema appunto anche di tempistica perché se l'atto arrivasse con una tempistica più ampia tutti avremmo la possibilità di affrontare, discutere ed eventualmente sistemare le cose. Invece ci troviamo molto spesso nelle ultime settimane a dover affrontare queste problematiche in aula, in seduta di Consiglio Comunale e non è una cosa bella anche quello che è successo ieri sera. Tant'è che la commissione da lei presieduta alla fine aveva espresso un voto contrario con l'assenzione degli esponenti dell'opposizione. Ci siamo astenuti proprio per questo motivo perché il problema è nato con le parere del revisore dei conti, cioè la delibera era apparentemente una semplice delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio lettera E, cioè senza sentenza, quindi con un accordo con la controparte. Di fatto però poi i revisori il parere non l'hanno rilasciato semplicemente nella delibera di debito fuori bilancio, ma hanno detto che questo debito andava compensato con i crediti, crediti certi dicono i revisori, nei confronti della Soggerri, cioè delle fatture che il comune di Sciacca ha emesso alla Soggerri per circa 410 mila euro di royalties ovviamente che doveva la Soggerri al comune e quindi il revisore dei conti hanno scritto nel parere che il Consiglio Comunale doveva obbligare gli uffici finanziari a compensare queste somme. Capite bene che è un po' complicata questa cosa perché noi dobbiamo obbligare gli uffici, mi sembra una cosa un po' diciamo come è stata difficile. Poi abbiamo trovato una via di mezzo che consentisse tutti di stare un po' più sereni perché il problema del debito fuori bilancio è l'eventuale debito erariale che si può creare, che si può arrecare al comune, all'ente in questo caso. Quindi eravamo incastrati dal fatto che bocciarlo era complicato appunto perché potevamo arrecare danno in quanto decadeva completamente quell'accordo che c'era con la ditta e c'era la rinuncia agli interessi. Se approvarlo in questa maniera con il parere dei revisori che obbligavano la compensazione era pure complicato. Alla fine abbiamo trovato una soluzione che è quella di calare questo parere all'interno della delibera. Questo perché? Perché così gli uffici con il parere pure degli uffici e dell'amministrazione abbiamo fatto diventare quel parere non solo un parere che era nostro vincolante per noi ma era vincolante anche per l'amministrazione e per gli uffici finanziari del comune, per l'ente. Quindi diciamo abbiamo trovato questa soluzione per uscircene. Sullo sfondo c'è una questione politica, ossia il fatto che l'amministrazione non ha una maggioranza in consiglio comunale e che la vostra parte politica si sente in un certo modo responsabile poi perché potrebbe determinare la bocciatura degli atti. Guardi il problema è questo, ci troviamo in una situazione veramente difficile e devo dire complicata anche per la maggioranza politica. Noi siamo una maggioranza numerica, la maggioranza politica stessa sono in forte difficoltà. Vedo il mio amico, il consigliere Leonte, spesso in serie difficoltà in quell'aula. Questo perché? Perché tutto dipende dalle nostre scelte. Però è chiaro che poi le scelte diventano quasi obbligate per il fatto che se arrivano delle delibere come quelle di ieri sera di variazioni di bilancio, di fondi PNRR, di fondi importanti per la realizzazione di un asilo emiagrammici, per una serie di altre cose sul sociale, per esempio la vecchia scuola rurale che c'è in Contrata Sant'Antonio dove lì verrà una struttura dedicata al sociale e altri finanziamenti che sono arrivati. Cosa fai? Cosa fa il consigliere comunale? Deve bocciarli? Non è il caso. La cosa che a me dispiace e che ci tengo a puntualizzare e che ho detto più volte anche in aula è che l'amministrazione a questo punto quando deve programmare qualcosa deve coinvolgere ovviamente il consiglio comunale perché non possiamo trovarci un punto che intanto poteva essere trattato prima. Mi riferisco per esempio alle variazioni di bilancio sui fondi PNRR perché uno dei decreti dei fondi PNRR porta la data del 26 settembre. Noi ci siamo trovati a discutere invece questo finanziamento il 28 dicembre. Capisce bene che sono passati tre mesi, non ha senso arrivare a tre mesi quando invece si poteva fare. Certamente almeno un mese prima perché il piano triennale opere pubbliche va pubblicato quando viene modificato per 30 giorni, l'hanno pubblicato il 15 di novembre e già hanno perso tempo dal 26 settembre, era diciamo trattabile il 14 di dicembre e invece ci è arrivato in commissione il 22-23 dicembre. Quindi diciamo ma cosa cambia? 8 giorni, 7 giorni? No, cambia che noi non possiamo arrivare sotto data ogni volta con ovviamente il coltello puntato perché l'indomani scade o la notte scade o dopo due giorni scade. Abbiamo la necessità di programmare quindi invito l'amministrazione che quando ha ovviamente programmazione da fare il Consiglio Comunale coinvolge le commissioni, i capi gruppo per decidere come programmare visto che purtroppo ad oggi non è stato così. I consiglieri che sostengono l'amministrazione comunale oggi esprimono soddisfazione per le delibere approvate ed evidenziano l'importante lavoro svolto dall'intero Consiglio. Si tratta di delibere della giunta termine scrivono Ambrogio, Campione, Certa, Curreri, Leonte, Modica e Ruffo che consentiranno le riqualificazioni di immobili e aree degradati per riconvertirli in spazi di socializzazione e di inclusione. Progetti approvati all'unanimità, di grande rilevanza sul piano della rigenerazione urbana per un ammontare complessivo di 7 milioni di euro che saranno fondamentali, evidenziano i consiglieri di maggioranza, per dare risposte importanti sia nell'ambito degli sbocchi lavorativi sia sul piano del decoro urbano ma soprattutto in quello dei servizi a sostegno delle categorie fragili. Potrebbero iniziare a metà gennaio o a fine gennaio i lavori per la messa in sicurezza del ponte Bagni lungo la via Enrico Ghezzi da dove da un anno e mezzo si transita a senso unico alternato disciplinato da semafori. Il condizionale è d'obbligo posto che si tratta di una vicenda che continua a registrare ritardi. L'ulteriore ostacolo che ha impedito alla ditta che si è giudicata l'appalto di iniziare i lavori è rappresentato dalla presenza al di sotto del ponte di una linea della telefonia di Stato che va spostata. Ieri sera in Consiglio Comunale è stato l'assessore fisco a fare il punto della situazione su sollecitazione del consigliere Bruculeri. Sentiamo. Si allungano ancora i tempi per intervenire nel tratto della via Enrico Ghezzi all'altezza del ponte Bagni dove da un anno e mezzo ormai e precisamente dal mese di giugno del 2021 quando si verificò il tragico incidente costato la vita del medico di Canicattì Mauro Granata si transita a senso unico alternato disciplinato da semafori. Un ulteriore ostacolo ha impedito l'avvio dei lavori di ripristino e messa in sicurezza. Il nuovo impedimento questa volta è rappresentato dalla scoperta di una linea telefonica ad alto rischio presente al di sotto del ponte e che va spostata. Lo ha annunciato ieri sera durante la seduta del Consiglio Comunale di Sciacca l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Fisco su sollecitazione del consigliere Raimondo Brucculeri. Il ponte Bagni ha una vicenda molto particolare, è stata mia cura sin dal, anzi forse prima dell'insediamento di prendere coscienza il perché del continuo ritardo. Ad oggi, lasciando stare tutto quello che è successo nel passato, ad oggi la situazione è questa che l'impresa che ha vinto l'appalto ha dato disponibilità per la metà di gennaio o per fine gennaio, perché il giorno, se non sbaglio, 13 o 12 di ottobre, quando stavano iniziando i lavori, sono venuti a conoscenza che al di sotto, nell'intradosso del ponte Bagni, vi era una linea telefonica ad alto rischio che non poteva essere né toccata dall'impresa né quantomeno dalle nostre squadre. Dopo aver fatto un censimento si è scoperto che era una telefonia di Stato, è stato richiesto lo spostamento di questa linea telefonica ai telefoni di Stato, quindi sede in Roma, è stato fatto un preventivo di circa 5.300 euro, se non sbaglio, abbiamo trovato le somme per questi altri 5.300 euro e siamo in attesa della loro disponibilità che dovrebbe essere a gennaio per intervenire e spostare i cavidotti che non potevano essere toccati, quindi previa denuncia penale, perché erano proprio telefoni molto particolari, quindi questa è la situazione, colgo positivamente la sua richiesta perché posso così anche dire anche a tutta la città qual è il vero stato delle cose. È relativa ai parcheggi, problematica atavica a Sciacca, l'interrogazione presentata all'amministrazione comunale dal consigliere della lista Messina Raimondo Bruculeri. Alla giunta termine viene chiesto quale sia il programma che intende portare avanti per dotare la città di aree di parcheggio, così da risolvere anche il problema del traffico e dell'inquinamento ambientale. Il consigliere Bruculeri evidenzia nell'interrogazione quali sono le aree a suo tempo previste nel PRG e nel piano urbano del traffico. C'è una pausa pubblicitaria, torniamo dopo per gli altri argomenti. Il 2022 si chiude a Ribera con le dimissioni di tre assessori. Hanno annunciato le proprie dimissioni ieri sera durante la seduta del Consiglio Comunale, il vice sindaco Tramuta e gli assessori Caico e Ragusa, tutti e tre espressioni di diventerà bellissima. Dimissioni legate alla richiesta di Forza Italia di entrare a far parte della giunta. Diventerà bellissima fa un passo indietro dichiarandosi disponibile a cedere un assessorato e ad allargare la maggioranza. Sentiamo. Si sono dimessi dalla giunta municipale di Ribera il vice sindaco Giuseppe Tramuta e gli assessori Davide Caico e Mariella Ragusa. Lo hanno annunciato ieri sera durante la seduta del Consiglio Comunale. La questione ruoterebbe attorno a Forza Italia e alla richiesta del partito di Berlusconi avanzata dopo le elezioni regionali dello scorso mese di settembre di entrare a far parte della giunta. Gli assessori dimissionari sono tutti e tre espressioni di diventerà bellissima e dunque vicini al ministro ed ex presidente della regione Nello Musumeci. Vogliamo favorire un chiarimento politico e aiutare il sindaco a trovare una soluzione, dice Tramuta, ma in piena armonia e senza scontri. La città non può essere governata con solo otto consiglieri. È necessario allargare la maggioranza per dare stabilità all'attività amministrativa, dice Davide Caico. Il gruppo diventerà bellissima che in Consiglio Comunale, presente con quattro consiglieri, è insomma disponibile all'allargamento della maggioranza e accedere un assessorato. Forza Italia sembrerebbe orientata ad indicare come assessore la consigliera comunale Enza Mule. La reazione dell'opposizione non si è fatta attendere. I fatti di ieri in Consiglio Comunale con il naufragio della maggioranza del cambiamento sono ascrivibili più che al genere teatrale della tragedia a quello della farsa, commenta oggi il consigliere della nuova DC Paolo Caternicchia. Lo spettacolo offerto ieri non fa onore né alla città né alle istituzioni che ne rappresentano la volontà popolare. Siamo perfino oltre ciò che viene definito teatrino della politica, la maggioranza consigliare che fino a ieri ha sostenuto in pompa magna l'azione amministrativa del sindaco Matteo Ruvolo, prosegue Paolo Caternicchia, si è letteralmente schiantata di fronte ad un tema antico e nobile che tocca da vicino tutti i nostri concittadini, specialmente i più deboli, le poltrone. Ci saremmo aspettati in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, maggiore responsabilità, attenzione e sensibilità verso i riberesi e invece viene messo in scena con una disinvoltura incredibile, un vero e proprio balzer delle poltrone. Secondo Caternicchia, inoltre, il sindaco in consiglio comunale ha parlato anche di ricatti e alla luce della gravità delle sue dichiarazioni, conclude il consigliere di opposizione nella nota, occorre che il primo cittadino faccia tempestivamente chiarezza al cospetto non solo del consiglio comunale, ma dell'intera cittadinanza. A pochi giorni dalla scadenza del contratto è arrivata la proroga per i precari del Covid in Sicilia, che riguarda anche gli amministrativi e tecnici, seppure soltanto per due mesi il servizio. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato una mini proroga di due mesi per i precari del Covid, un provvedimento sostenuto in maniera trasversale da tutte le forze politiche inserito nella legge di assestamento di bilancio. La novità riguarda amministrativi e tecnici per i quali non si intravedeva una soluzione alla scadenza imminente del contratto. Non a caso era stato costituito un comitato regionale e prospettate manifestazioni di protesta anche dai sindacati. La proroga del personale impegnato in questi anni nella gestione dell'emergenza coronavirus è arrivata, seppure solo per due mesi, e riguarda tutti gli operatori sanitari, amministrativi e tecnici. L'impegno assunto è mantenuto, ha parlato il presidente della regione Renato Schifani, che il giorno prima aveva incontrato una delegazione dei precari Covid. È una soluzione temporanea, ha aggiunto il governatore, con l'obiettivo di costituire un tavolo tecnico presso l'assessorato alla salute, che cercherà di individuare possibili percorsi per l'impiego di queste risorse umane. I lavoratori amministrativi Covid hanno finalmente una prima importante risposta, ha commentato il capogruppo del PD a Lars, Michele Catanzaro, che ha evidenziato l'impegno del partito per garantire una proroga dei contratti del personale amministrativo impegnato in prima linea durante l'emergenza coronavirus. Una buona notizia per tutta la sanità siciliana, per il gruppo di Forza Italia, con i deputati Pellegrino, Gallo Afflitto, Gennuso, Grasso, Lantieri, Larocca Ruvolo, Vitrano, Falcone e Tamaio, che evidenziano come il provvedimento riguardi personale medico, sanitario e amministrativo, che ha maturato sul campo una grande esperienza, che non andrà dispersa, ma dovrà costituire un patrimonio per tutto il sistema della sanità pubblica. Siamo sempre stati d'accordo sulla proroga, lavorando al contempo per consentire una futura stabilizzazione di questi lavoratori, è dichiarato il capogruppo della DC Carmelo Pacio, che poi evidenzia anche l'altro importante emendamento approvato ieri sera in aula, quello che consente ai laboratori di analisi siciliani più piccoli, che hanno in corso litere di aggregazione per raggiungere il minimo delle 200.000 prestazioni annue previste dalla normativa, di poter adempiere all'obbligo entro il 30 giugno del 2023. La scadenza originaria era fissata a fine dicembre 2022. È un'importante proroga che, senza comportare alcuna spesa per la regione, renderà più agevole per i lavoratori più piccoli l'adempimento di un iter burocratico complesso. Ha concluso Carmelo Pace. Introdurre e regolamentare la pet therapy all'interno di ospedali, case di riposo, centri di riabilitazione e scuole. Questo l'obiettivo di un disegno di legge presentato dai deputati regionali Carmelo Pace e Ignazio Abate, che punta ad utilizzare gli animali da compagnia come assistenza per i pazienti e per aiutare a curare malattie e problemi comportamentali e psicologici. Previsti anche percorsi formativi per gli operatori ed equip mediche. Vediamo il servizio. Animali domestici per aiutare a curare malattie e problemi psicologici e comportamentali. Questo è l'obiettivo di un disegno di legge presentato dai deputati regionali della nuova democrazia cristiana Carmelo Pace e Ignazio Abate, una legge che dovrebbe permettere l'introduzione e la regolamentazione della cosiddetta pet therapy per uso medico e per aiutare chi soffre di determinate patologie, come ad esempio depressione o autismo. Secondo il DDL, la pet therapy, largamento usata già in altre regioni italiane e stati esteri, potrebbe essere introdotto ufficialmente anche in Sicilia, all'interno di ospedali, scuole, centri di riabilitazione, centri residenziali sanitari, case di riposo, istituti di detenzione, comunità di recupero, centri privati, centri gestiti da cooperative sociali e fattorie terapeutiche e didattiche. L'iniziativa di Pace ed Abate prevederebbe tre programmi specifici denominati rispettivamente terapia assistita con animali, educazione assistita con gli animali e attività assistita con animali, e sarebbe portata avanti soltanto con animali appartenenti a specie domestiche di età non inferiore a 12 mesi, sottoposti regolarmente al programma sanitario e che ne attesti costantemente lo stato di buona salute. I programmi dovrebbero essere realizzati attraverso l'ausilio di equip multidisciplinari, esperta in interventi assistiti con gli animali, quindi da figure qualificate, con l'aggiunta di un medico veterinario e di un operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di riferimento. In tal senso, la regione siciliana dovrebbe farsi carico di avviare corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori dell'equip ed istituire una vera e propria commissione per la terapia e le attività assistite con animali. Il DDL quantifica anche le somme iniziali che servirebbero per avviare questi specifici percorsi sanitari, ossia 100.000 euro per il 2022, 100 per il 2023 e 100 per il 2024, stanziamenti da prelevare ad appositi capitoli di spesa, istituiti nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024. Con il presente disegno di legge, dicono pace ed abate, si intende riconoscere il valore terapeutico e riabilitativo degli animali e domestici a supporto di tutti i soggetti con patologie neuromotorie cognitive o psichiatriche finalizzate a migliorare la qualità della vita. Diversi studi scientifici infatti hanno dimostrato che durante le sedute di pet therapy il paziente che giornalmente si trova in uno stato d'ansia e di preoccupazione migliora notevolmente lo stato d'animo. È importante dunque affiancare alle cure mediche un supporto quale l'animale che fa da co-terapeuta in grado di intervenire sulla psichia umana. La palla adesso passa al governo regionale che dovrà legiferare e normare sul tema, come già hanno fatto da anni altre regioni d'Italia. Oltre 3.500 euro a tanto a monte ricavato della tombola di beneficenza che si è svolta ieri sera nel Salone della Chiesa della Perriera organizzata dalle associazioni Orazio Capurro e Agape. Un risultato straordinario per il quale oggi le due associazioni ringraziano quanti hanno partecipato e quanti si sono adoperati collaborando all'organizzazione dell'evento. Vediamo il servizio. 3.528 euro a tanto a monte ricavato della tombola di beneficenza che si è svolta ieri sera nei locali della Chiesa Beata Maria Vergine di Loreto della Perriera, organizzata quest'anno dalle associazioni Orazio Capurro Amore per la Vita e Agape Onlus di Sciacca. Un'iniziativa che si svolge da circa un decennio e che al pari di tante altre manifestazioni negli ultimi due anni è stata sospesa a causa della pandemia. La serata è andata oltre ogni più rose aspettativa. Un salone stracolmo di gente, tanti premi e soprattutto tanta solidarietà con oltre 350 persone che hanno partecipato alla tombola di beneficenza, oltre 100 sponsor e oltre 150 premi in palio. Una rete di solidarietà, quella messa in campo dalle due associazioni che da anni operano nel sociale ed il risultato è stato straordinario. Sono tante le associazioni che hanno collaborato alla riuscita dell'evento, Ridi che ti passa con Fabio Piazza e Massimo Napoli, la Schene Academy, Teatro Oltre, il Polo Didattico Universitario Unipegaso e tante attività commerciali che mettendo a disposizione i premi in palio hanno sostenuto con grande generosità la serata benefica. Premi che hanno consentito di raccogliere fondi per oltre 3.500 euro che saranno destinati all'acquisto e alla donazione di generi alimentari in favore del Banco Alimentare della Parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto e della Caritas della Parrocchia Beata Maria Vergine del Carmelo per aiutare le famiglie che versano in condizione di disagio economico. Le due onlus con i rispettivi presidenti Alessandro Capurro e Angelo Giaramita ringraziano quanti hanno partecipato alla serata e collaborato all'organizzazione dell'iniziativa incentrata sui valori della condivisione e della solidarietà. Teatro, animazione e intrattenimento oggi a Sciacca nell'ambito del calendario delle manifestazioni natalizie organizzato dalla Comune di Sciacca in collaborazioni con associazioni, club service, imprese, scuole della città. Alle 16 alla Badia Grande e a San Michele secondo spettacolo della rassegna teatrale per bambini e le famiglie. In scena la compagnia nave Argo con la Hansel Gretel e il segreto della strega interpretato da Giovanni Maugeri e Iridiana Petrone. Uno spettacolo liberamente ispirato alla favola dei fratelli Grimm. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Dalle 18 alle 20 animazione e intrattenimento in centro storico per bambini e famiglie. La ZTL sarà in vigore dalle 17 alle 21. Ancora un finanziamento per il Comune di Lucca Sicula. Si tratta degli adeguamenti e dei servizi digitali tra l'ente e il cittadino. Quasi 170 mila euro proveniente dai fondi del PNRR. Ne parliamo in questo servizio. Ancora un finanziamento l'ennesimo per il Comune di Lucca Sicula. Si tratta questa volta di quasi 170 mila euro di fondi provenienti dal PNRR che serviranno per l'adeguamento e lo sviluppo dei servizi digitali tra l'ente pubblico e il cittadino. Nello specifico si leggono nei decreti di finanziamento quasi 48 mila euro per l'abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali. Di altri circa 18 mila euro per l'adozione della piattaforma Pagopà. Di quasi 8 mila euro per l'adozione dell'app Io per i Comuni. Di altri 80 mila euro per il miglioramento dell'esperienza del cittadino nei servizi pubblici. E infine di ulteriori 14 mila euro per l'estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale Speedcie per un totale quindi di circa 170 mila euro di fondi del PNRR. A darne comunicazione l'amministrazione comunale lucchese guidata dal sindaco Salvatore Dazzo. Per il piccolo comune grigentino o nel 2022 che si chiude così per come era cominciato ossia contrassegnato dai decreti di finanziamento ottenuti. Esprimo soddisfazione dichiara il sindaco di Lucca Sicula Salvatore Dazzo per questo ulteriore risultato e finanziamento raggiunto con l'ausilio dell'amministrazione del consiglio comunale e degli uffici comunali preposti. Si chiude un 2022 davvero eccezionale in termini di risultati e di finanziamenti conquistati dal nostro comune. Una comunità che, seppur piccola, passo dopo passo sta diventando sempre più bella, funzionale, accogliente e a misura di cittadino e di visitatori. Sono risultati, conclude il sindaco Dazzo, resi possibili grazie alle interlocuzioni costanti e dirette che porta avanti con gli uffici regionali e nazionali preposti. Stiamo facendo tutto il possibile per il miglioramento del nostro paese e per farlo uscire da quella marginalità territoriale a cui per troppo tempo suo malgrado è stato relegato. Siamo sicuri che anche i primi mesi del 2023 saranno importanti, perché da un lato avremo la conclusione positiva di alcuni cantieri pubblici già avviati nei mesi scorsi e dall'altro si apriranno altri nuovi cantieri cittadini che fanno seguito ai finanziamenti già ottenuti e decretati, come ad esempio le opere idrauliche del canale di Gronda contro i rischi idrogeologici e quelli per il rifacimento esterno ed interno del palazzo comunale. E adesso per la cultura la nostra consueta pagina, la rubrica del libro del giorno. Marisa guarda con sgumento la classifica dei libri più venduti. In cima c'è il romanzo che ha tra le mani. L'ha sfogliato e ha riconosciuto ogni pagina, ogni riga, ogni vocabolo. Questo è il libro che ha pubblicato vent'anni prima, solo che ora il nome dell'autore in copertina è un altro e lei non sa chi sia. Qualcuno ha copiato il suo romanzo. Marisa non sa che fare, perché non può dimostrare che si tratti della stessa storia scritta con le stesse parole. Non può farlo perché quando ha pubblicato il suo esordio è stato un totale fallimento e ne ha distrutto ogni copia, ogni file. Invece ora qualcuno con quello stesso libro sta avendo successo e invetta alle classifiche. Marisa non ha idea di come sia potuto accadere, ma deve vendicarsi. Anche se non ha le prove non può permettere che questo plagio vada avanti. Ricorda perfettamente come funziona il mondo editoriale, ne conosce tutte le leggi. Deve solo provare a entrarci, in qualche modo nessuno si ricorderà di lei e deve riuscire ad avvicinare l'autore dell'imbroglio. Basterà giocare sulle sue ossessioni di scrittore che lei conosce bene per portarlo alla verità. Basterà far vacillare le certezze della sua creatività per ottenere quello che vuole, un piccolo peccato solo per amore della giustizia. I peccati di Marisa Salas, di Clara Sanchez, Edito Garzanti. Ed infine pulizia della spiaggia della Tonnara il 3 gennaio prossimo. È la prima iniziativa del nuovo anno da parte di Marevivo ed è promossa in collaborazione con il comune di Sciacca e l'istituto Amato Vetrano. Vediamo il servizio. La delegazione siciliana di Marevivo Onlus si prepara a festeggiare l'arrivo del nuovo anno con nuove iniziative per la salvaguardia del mare e dell'ambiente e promuove una prima azione di pulizia della spiaggia. Il 3 gennaio i volontari dell'Associazione Ambientalista si ritroveranno presso la spiaggia della Tonnara di Sciacca dalle ore 9 alle 13 per un'attività di pulizia e rimozione dei numerosi rifiuti presenti, soprattutto plastica e polistirolo. È la prima azione concreta del nuovo anno e punta ad affermare il valore etico della campagna nazionale di Marevivo Onlus adotta una spiaggia che tra i tanti tratti di costa adottabili, da poco ha inserito anche la spiaggia della Tonnara di Sciacca. L'iniziativa, come si ricorderà, è stata presentata ufficialmente lo scorso 14 dicembre alla presenza della Capitaneria di Porto, dei rappresentanti del Comune e degli alunni dell'Istituto Amato Vetrano che a partire da gennaio inizieranno a prendersi cura della spiaggia su cui insiste il proprio convitto. L'attività di pulizia sarà seguita da quella di campionamento dei rifiuti che prevede la suddivisione dei rifiuti raccolti in diverse categorie, sottoposte poi al conteggio e alla loro pesatura. I dati raccolti contribuiranno ad alimentare il monitoraggio a livello mondiale delle tipologie più frequenti di rifiuti rinvenuti sulle spiagge al fine di poter trovare misure di prevenzione che limitino il loro abbandono nell'ambiente. L'attività del 3 gennaio vede anche la collaborazione del Comune di Sciacca, dell'Istituto Amato Vetrano e dei partecipanti al recente corso per educatori ambientali che l'Associazione Marevivo ha promosso a Sciacca per diffondere sempre di più l'importanza dell'impegno e dell'informazione sulle grandi emergenze ambientali. Ovviamente l'iniziativa è aperta alla partecipazione di tutti coloro che vorranno dare un contributo alla tutela di questa spiaggia che oltre ad essere una delle più belle del litorale saccenze esprime un grande valore storico e culturale. E con quest'ultima notizia per il momento è tutto, ci fermiamo qui, grazie come sempre per l'attenzione e arrivederci. Grazie a tutti.